Con questa ricetta in appena un quarto d'ora portate a tavola un buon secondo di pesce. Gli alici in padella cucinate così prevedono solo due ingredienti, a parte le erbe aromatiche che deciderete di utilizzare. Sono buonissime, facili, economiche e fanno anche tanto bene. Ricetta velocissima se come me acquistate le alici già pulite. Bisogna togliere la testa, la spina centrale e aprirle al libro. A questo punto basterà sciacquarle sotto acqua corrente e lasciarle scolare qualche minuto. Nel frattempo ci portiamo già avanti tagliando dei pomodorini in pezzetti molto piccoli. Vi suggerisco di usare dei datterini che avranno una polpa non troppo acquosa ma molto dolce. E adesso fuori dal fuoco in una padella abbastanza capiente andiamo a comporre la nostra pietanza. Mettiamo due giri d'olio di oliva, qualche fettina di aglio, una manciata di pomodorini e disponiamo il primo strato di alici, sistemandole a raggera con la coda rivolta verso il bordo della padella. Aggiustiamo con un pizzico di sale, un po' di origano, pepe nero macinato e ancora pomodorini. Secondo strato di alici. Andiamo a coprire tutti gli spazi disponendoli ancora una volta a raggera. Adagiamo gli ultimi pomodorini rimasti, ancora qualche fettina di aglio, un altro pizzico di sale, origano, pepe nero e per completare un filo d'olio di oliva. Adesso sì possiamo andare sul fuoco e a fiamma media con il coperchio aspettiamo che inizino a sfrigolare. Ecco, è bastato un minuto e è iniziata la cottura. C'è da subito un ottimo profumino, rimettiamo il coperchio e lasciamo cuocere così dolcemente fino a quando tutti i pesciolini avranno cambiato colore e si sarà formato un gustoso guazzetto. È stato sufficiente un quarto d'ora scarso. E il mio secondo è già pronto per deliziarci. Le alici rimangono umide, tenere e gustose. I pomodorini regalano quella dolcezza che riesce a valorizzare il piatto e questo sughetto è perfetto anche per pucciare un po' di pane. È un'ottima variante delle alici in padella al limone pronte in 5 minuti che vi ho proposto tante volte. Se vi manca ancora questa ricetta lasciate un commento e sarò felice di mostrarvela. A presto con un nuovo video. Un abbraccio da Valentina.